La configurazione barica, cioè la distribuzione della pressione, è in questo momento piuttosto critica. Infatti crea le condizioni affinché poi i sistemi perturbati, invece di scorrere su di noi, si blocchino proprio sui nostri territori e quindi scaricano su questi e quindi sul nord-est, sulle nostre zone, tutta la pioggia, tutto il carico di pioggia e tutto il tempo perturbato. Quindi ci si aspetta in poche parole due giorni di pioggia, pioggia continua, più o meno intensa, anzi a tratte anche molto intensa, fatto sta che poi alla fine di tutto, e la quantità di pioggia caduta sarà molto alta. È un tipo di tempo che purtroppo ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana. Quindi con questa situazione dobbiamo dire poi che c'è tanta neve, tanta tanta neve veramente, naturalmente a quota medio alta, quindi oltre i mille metri. Dicevamo che una settimana, quindi all'insegna del tempo variabile, ma instabile. Questo è l'inverno. Per quanto riguarda i venti, sono deboli ma con rinforzi anche intensi dai quadranti meridionali, quindi le condizioni per temperature più alte della media e soprattutto purtroppo per l'acqua alta a Venezia, ma qui il Mose in qualche modo ha risolto il problema. Temperature e i valori, i valori minimi 8, 9, 10 gradi, valori massimi 12, 13 gradi in pianura naturalmente. Poi la prossima settimana le minime scenderanno, ma non si porteranno mai in pianura sotto lo zero. Per quanto riguarda l'alta triatico, come se non bastasse, è previsto molto mosso, addirittura agitato. È tutto.